Toby! Mi hai guardato negli occhi e poi hai agito alle mie spalle. Anche tu! Come sapresti che il coltello non c'è? Anche tu sei tornato lì. Perché volevo fare la cosa giusta. Se la pensavi così, avresti dovuto prenderlo la prima volta. Continui a parlare della cosa giusta, come se noi non avessimo idea di quale fosse. Ma in questo caso dovevamo proteggerci, darà possibile sbarazzandocene, ok? Spencer, io non devo... Spencer, io non devo... Io non devo saperle certe cose, così peggiori la situazione. Ci sono cose che non devo sapere, che tu non mi devi dire apertamente. Una volta hai detto che potevo dirti tutto. Devo andare. Grazie. 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 Grazie.